Ragazzi questa mattina dopo appunto non essere andato a scuola ho deciso di registrarvi un video un po' diverso dal solito Ragazzi si tratta di un vlog, spero vi piaccia, uno dei primi appunto nel mio canale Quindi raga lasciate un like di sostegno, se ne volete altri appunto scrivetevi uno nei commenti Buona visione Bella raga e benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Matzo e oggi sono tornato finalmente a portarmi un nuovo vlog Raga si tratta appunto di un vlog, un qualcosa che non avevo mai portato, un dialogo libero, non un fuck dove risponderò a certe domande Ma appunto un video dove andrò a esporre diciamo le mie opinioni riguardanti youtube di questo periodo Raga appunto partiamo subito col fatto che siamo arrivati a 661 iscritti Un mese preciso fa raga il 7 appunto dicembre eravamo arrivati a 500 iscritti e uscì lo speciale Oggi 7, raga che cazzo di mese è il gennaio, siamo appunto arrivati a 661 iscritti Quindi ciò vuol dire che abbiamo fatto 161 iscritti in un mese Raga questa cosa è magica, cioè raga avevo visto in un certo periodo tipo 20 persone che si iscrivano al giorno Non so questa cosa da cosa era data, forse appunto dalla frequenza di video di un giorno l'uno dall'altro Ma raga vi voglio ringraziare per tutto il supporto che mi state dando In questa appunto parte del mio canale, in questo mese, ci sono stati dei video che hanno raggiunto numeri assurdi Per la prima volta il mio video è arrivato a 100, più di 100 like, raga è arrivato a 120 like Il video appunto del pack opening, raga il mio cane abbaio ovviamente, raga è assurdo, non si può registrare E quindi ritornando appunto all'argomento di prima vi ringrazio per tutto il supporto che mi state dando L'altro argomento appunto che volevo trattare in questo video è la questione dei like, raga perché appunto vedete video dove arrivo a 100 like Ed altri video dove magari sono, meritano lo stesso, ma arrivo appunto a 30 like o meritano anche di più Raga io vi invito a lasciare un like, questo appunto è tipo un incitamento a lasciare like appunto a tutti i video che vedete Non solo i miei, ma anche di altri youtuber, perché anche in altri autocanali vi trovo la stessa situazione Dove magari video che meritano non arrivano a tot like solo perché magari non sclerano oppure non spaccano qualcosa E via dicendo, quindi raga incitate youtuber attraverso i like Poi raga appunto volevo diciamo consigliarvi tre video più belli di questo mese Che sono stati appunto il pack opening ovviamente che è arrivato a 120 iscritti 120 iscritti È arrivato a 120 like, raga ovviamente tutti i link li troverete in descrizione Ovviamente lo speciale 500 iscritti sempre in descrizione, raga video epico, raga non mi scorderò mai E terzo in fundus, il pink slips, appunto il primo pink slips del canale Non farò un video al giorno, però perché raga è iniziata la scuola, quindi raga un video ogni due giorni A volte capiterà un video al giorno, raga se appunto ne avrò la possibilità Tipo il sabato o la domenica metto a registrare a manetta Questa era un video in formazione, un video comunque velocissimo Io spero comunque vi sia piaciuto, ricordatevi like a tutti i video, raga Non sui miei ma anche negli altri canali Io vi ringrazio di nuovo per tutto il supporto che mi stai dando, raga siete magici Noi ci becchiamo per un prossimo video Bella ragazzi Ciao! 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 Ciao!